Positivo a cannabinoidi e cocaina, accusato di omicidio stradale o omissione di soccorso, rintracciato dagli agenti del commissariato di polizia di Ostuni, un 26enne originario di Monopoli, maresidente a Pezzi di Greco, frazione di Fasano, è stato arrestato e condotto nel carcere di Brindisi. Sarebbe stato lui, secondo l'accusa, a guidare la Mercedes che nella notte, tra domenica e lunedì, ha travolto e ucciso Andrea Catamerò, 25enne di San Vito dei Normanni, morto sul colpo dopo il terribile impatto, avvenuto su una complanare della strada statale 379, a ridosso di un lido della costa ostunese, dove la giovane vittima aveva trascorso la serata insieme ad alcuni amici. Proprio le testimonianze raccolte, tra cui la targa e il marchio dell'autopirata, già nella notte avevano portato gli investigatori sulle tracce del presunto pirata, infine individuato e dopo un passaggio in commissariato ristretto nel carcere di Viappia, in attesa che il CIP convalidi o meno l'arresto, piange la comunità di San Vito dei Normanni, dove il giorno del funerale di Andrea sarà lutto cittadino. Il sveglio a San Vito è stato tristissimo, la notizia della morte di Andrea ci ha lasciati sconvolti. In questo momento noi solo possiamo pensare di essere vicini, di stringerci alla famiglia, in un ricordo speciale per questa giovane vittima che purtroppo, in quest'ultimo periodo di tempo, sta colpendo la nostra città. Intanto sarà proclamato il lutto cittadino. Certamente non appena avremo notizie dei funerali, io sarò per prima a proclamare il lutto cittadino durante i funerali, in maniera che tutta la comunità possa stringersi veramente a Fiorella e a tutta la famiglia. Grazie.